Ciao ragazzi, finalmente siamo partner di Aston Deck Tracker, quel programmino che mostra le percentuali durante le partite di vittoria, sconfitta, pareggio e anche degli eroi migliori a inizio del game quindi è il top del top, super consigliato, potete scaricare dal link in descrizione A me questo non ci non piace, però è davvero il migliore? Sì, sì dai, trovo forte il suo body, non so perché abbia ancora se il C-Armost Quale dei due? Tira cavi? Sono uguali più o meno Muma, chi è che te l'ha detto che non c'era live? L'ho scritto poco dopo e ho pinnato il post Telegram Ho fatto la live extra, sorpresa in realtà, è iniziato alle 11 No dai, inizia con 1-1, non si può Questo fa male No, non credo ci sia fare HP, non vedo che vantaggio ne... che vantaggio ne... gioviamo Quasi finisce con yogurt Mi ho comprati un'infinità, faccio mangiare una sera, se no mi scadono Allora, anche se è bellissimo sto shop Probabilmente prendiamo due pezzi al 2 Ma quali? 6-3-2-5 direi Ma forse era 25 HP Forse era meglio No Qua devo pareggiare, dovevo attaccare... quello di quello A2 Le sconfitte che non ti uccidono ti rendono più forte Ma sta sempre E giochiamo o pompiamo il Cyclone? Comunque è brutta sta combo C'è brutta Ci sta in realtà È semplicemente brutta con Cyclone il 6-3 dopo Uh, Censys, tre anni! Grazie mille Come stai? Il problema è che i ragazzi... Ragazzi, pomperemo il Cyclone Puzza il Cyclone Eh, vabbè, dopo prenderemo un 3 Puzza anche un po' non farei HP Non è che ci sia tantissimo da sfruttare qua E grazie pure a Erzas! Come va? Grazie al settimo Grazie ragazzi Continua così, forza! Fanno una bordata incredibile Il Murlock 2-5 fa schifo in sto meta ragazzi Perché non ti vuoi tenere le cose in mano Perché ritardi il Buddy Ma è che lui l'avevi perso sempre da questo L'avevi perso sempre 2-4 è forte Comunque Sconte lo cambi, non droppa uno Però in cambiare un droppa uno Boh, effettivamente È che sia il massimo So che ovviamente prendere il Buddy Il prima possibile è tanta roba Lui ha livellato quando? Adesso Uccelli Ma Stavo a terra in mano, droppa uno Non dirlo agli altri Ma faccio il tifo per me Oppo scamo il pareggio Allora Allora adesso Rolliamo O prendo il 3-5 Forse si fa HP sul 6-3 qua Però se faccio HP sul 6-3 Prendo due oro Con due oro che me ne faccio Niente 3-5 nulla Roll Vediamo cosa mi dà Ok Mangio Prendo spele Pezzo Ok va bene Ho tanti scudi Lui ha bestie Mangio lui Prendo lui Lui è salito Allora Prendo è questo Non è che sia bellissimo Mangeremo però C'è un così Uè Mirko Come va? Buonasera Come stai? Come va là in Svizzera? Build esotica Lioppo Qua è andata bene Anche qua Qua è andata bene a me Qua è andata benissimo A lui Malissimo a me 4% In bad di meta No please Figa Figa Posso far entrare altri servitori più forti ora Un servitore in meno Una moneta d'oro in più Ho livellato Si si prova Sì in realtà questi fanno cagare Però comunque fanno meno cagare di Oka Ma Oddio scarsissimo Mazzami quel rillac Ok Ok grazie E 10 e 15 Se ne prende 7 6 anzi Comunque è buono Che abbiamo fatto tra 4 Anzi abbiamo vinto Adesso Vediamo un po' che combinare O sarebbe da salire qui Brann Ok 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 Allora Chiudiamo di Brann Sto turno Poetaz Vorrei fare Brann Poetaz Però Adesso il Poetaz Me lo posso anche tenere in mano Ha senso prendere due Brann Troppo gridi dite Un Brann si prende al 100% Per me si prende anche l'altro C'è una po' la follia Vai Mullo 3-2 Freeze Bello Ok ok Tutto molto bello Allora Prossimo turno Ragazzi vi ricordo Se il video vi sta piacendo Iscrivetevi al canale Con il tasto qua sotto Potete attivare la campanellina Se volete ricevere notifiche Per i prossimi video E se proprio Volete esagerare Un commentino Per l'algoritmo Qua si fa un po' una rivoluzione Si vende l'8.3 Si venderà probabilmente anche il Rilac Dragonaga c'è? Non c'è il Dragonaga Quindi in realtà Il Rilac in realtà può saltare Proprio per una questione di Ho già questo che mi dà soldi Raga dov'è il tasto per il Prime da cell? Sei da iPhone per caso? Perché a volte non si vede da iPhone Filo Ti conviene entrare da Safari Come HP su Rilac Ma al momento mi scudi Però Al momento vai Prendi questi e questi Che sono free E poi per un turno faccio HP sul Vedetta Che sono 5 ore Poi se faccio anche Buddy Con questa Prendi il turno dopo Se fa pure Buddy Prendi il turno dopo Me ne fa 15 Com'è questo? Secondo Magma E anche Armor Non sarebbe male fare Sembra quel morto Ho fatto sempre questo Nice Allora via Via Prendi il turno dopo Questa Questa Via Questa Via Via Rag 10 gold Boh Ah sì Inso sta roba Allora facciamo anche T-Rap Vado anche a 6 qui Faccio così Faccio lui Principe Lock Si tiene Non c'è già l'altro Farai rag Dovrei fare Lo facciamo così Prossimo turno salta Rilac Prossimo turno salta Rilac Prossimo turno salta Rilac Buona battaglia Che altro Magma Che è una coppia Devo tenere il principe Oddio Sempre a mettere il proc Anche col morto Guarda Questo è un po' Le Mech Ah ti ho perso Allora Questo Via Questo All Sai che deve saltare Taverin Tempest Qui Anche a me non piaceva Eccoti una moneta d'oro Per il disturbo L'arma non la posso prendere Per sta cazzata D'accordo Ci ho così Ci ho così Ci ho così Ci ho così No! 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 Er... No! 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 I'm sorry! I'm sorry! Un servitore in meno Una moneta d'oro in più Madonna Sono tottuno con le spine Mi risultato modulo Ma non credo ci sia Non credo di dare lo spazio per poterlo fare Un po' panic freeze Oddio non mi aspettavo rocciarock triplato così Fuori di test Allora Prossimo turno Salta l'amalgama Salta l'iroe l'amalgama Metto rocciarock e faccio giro l'elemental Che poi l'amalgama si potrebbe anche tenere In realtà Vado a saltare i due scam Vediamo un attimo contro chi siamo Prima Forse l'amalgama effettivamente a modulo Così c'è di meglio In realtà L'amalgama gli faccio capire basta Prendo 12 soldi Anzi fuori hiper si prende sempre Via Questo bono Dentro Ho la prima fuori hiper Ok vabbè Anche a me non piaceva Eccoti una moneta d'oro per il disturbo Quello farà un bel po' di danno Nel meccanismo di pietitura Oh si devo fare questa Questa C'è il roller ragazzi Ma io qua non mi sento di vendere nulla Per il roller C'è il buddy molto meglio Per i soldi Mi sta lì Quello potrebbe fare la differenza Anch'io avrei scelto quello Ho qua Bestia In realtà Siamo in elemental Non ho il murlo qua Sbagliato Cioè potrei far saltare quello di questo qua Per il roller in realtà Forse più forte Cosa mi dite Mi dico che metto roccia rock Eh no Il roccia rock e compro di elemental Non dirlo agli altri Ma faccio il tifo per te Bisognerebbe mangiare il magmaloc Con la spell Questo bisogna fare Mi serve uno spazio qua Eh vendere il buddy Mi sembra Sbagliato Anche se in realtà Il buddy non scala Quindi potrebbe saltare pure il buddy Cioè potrei dire Vabbè Non voglio più i 12 ore Turno O roller E mi dà quei soldi Poi il roller Intanto scala pure Per il resto Però comunque Se avendo il pari Faccio solo elemental E che in realtà Il pari È più generico Mi serve Togliere questo Mettere il roller E questo è stato buono Comunque per ora Per all Ok 8-12 2-6 Mi cazzo faccio A far saltare qua Eh Finché non Ci devo far saltare Questo per questo Che lui però Dà più uno più uno A tutto La stessa cosa Fanno Questa non la devo Pigliare Anche a me non piaceva Eccoti una moneta d'oro Per il distruttore Assolda pure Una di queste Recreter Adesso è più svelto Qui Loppo ha appena Fato una cosa brutta Però non so se Era più forte Per lui togliere Il 4 Reaper O il Murlock Forse era più forte Togliere il Murlock Un gastro Non ha senso Quando sono elementari È fortissimo A ragionire In realtà Da mangiare Io mangio sempre Un 6 Perché mi dà 12 oro Sto coso Quindi Cerco di mangiare Un 6 E il 6 Cerco di Generarmelo Da qualcosa Il top sarebbe Sempre Il miglior 6 da mangiare È il Murlock Quello che Che buffa Però comunque Alla peggio Cominio lo stesso Comprare un Un 6 E semplicemente Mangiarsi Perché Comunque prendo Paghi 3 E poi E poi Tiri da 12 Se no Posso sempre Prendere un 5 E mi da 10 Però se il 5 Fa qualcosa Va bene Che si fumano La brisa Sto eroe È un body Senza senso Sono d'accordo Con voi Ma proprio Senza Il minimo Senso Anche a me Non piaceva Eccoti una moneta D'oro Per il distrutto Io lo dico sempre Fai le cose In grande O non farle Affatto Grazie Questo È un piccolo Cello Meglio Assoldare Una recluta Finché Puoi farlo Uh Oh Questa Tutto Tutto Fighissimo Meglio Assoldare Una reclutati Che puoi farlo Sono Tutto Stai andando Bene Questa Lo devo mettere Dietro Però È andata bene Come trade Però L'ho rischiato Mi sa che è il body Che salta Ragazzi Sto giro Dio Cosa Noo Basta Takari Distratto Ma no Porca miseria Ok Ho rischiato Ho rischiato Comunque Di perdere Ragazzi Ci rendiamo conto Allora Questo ha Bestia Quindi questo Fa schifo Questa fa schifo Questa fa schifo Quanto di lui Era buono Quello da mangiare Che miseria Che miseria Che miseria Che miseria Che miseria Allora Praticamente lui evoca Questi due qua E potrei vendere lui Eventualmente I scarabèi Qui Scarabèi li voglio ammettere Discovery a 6 Ci sono dei buff Quasi mi metto Un murlo corale Sto torno Lui aveva messo così Ecco Ecco Comunque Siamo tutti a fare La stessa build Ragazzi Tutti questi Cioè o trovi Economy Infinita O fai questa build E probabilmente Rispi Di vincere lo stesso Con il chubacabra Che questo Questo Io non so se lo battiamo Boom Boom È stato buono È stato buono È stato buono Adesso altera anche il buddy Quindi Quindi Già questo Comunque Vogliamo mettere Zap Lui va un 2 no L'ha baffato No Vogliamo mettere 312 No Neanche Viroi serve Che fare tante stats Andiamo a muoverci Stava il pesto Vicente Facciamo Assolta pure Una di queste reclute Meglio assoldare Una recluta Finché puoi farlo È introvabile Perché mangia Appena l'ho detto È uscita Il problema è che ora Non riesco a farla Anche a me non piaceva Eccoti una moneta d'oro Per il destro Qua Hai la vittoria in pugno Sei in prima posizione Terzo No Va bene così Vediamo Il peggior 3 Non si poteva fare Tutto buono Buono Però mi sa che ho perso Dipende cosa cagano Quei coiler Se segui coiler Iniziano a cagare I liroi Perdo Non vedo liroi Spero che non abbia un filo in mano Se non abbiamo un filo in mano L'abbiamo vinto Tra che mi nasconde Le sue carte in mano Ma ce l'ha delle carte in mano Non ce l'ha Primo posto Again Con il body di Zanuncino Uno dei body più forti del gioco attualmente Cumuliamo i primi posti ragazzi Che qua servono Rividio quando sarò via Via Si sale Più 85 Dai Non vedo